La Baia Flaminia, sono Alessio, oggi è 3 maggio 2015 e questa è la Baia Flaminia di Pesaro, facciamo una panoramica, lì è il monte San Bartolo, lì in fondo, dietro il quale c'è Cattolica. La Baia Flaminia di Pesaro lì è suona. La Baia Flaminia di Pesaro lo splendido cielo non sulcato da scia di alcun tipo. La Baia Flaminia di Pesaro è un saluto da me, da Alessio, adesso mi faccio vedere un attimo, sono io, capovolgola videocamera, eccomi sono io, un saluto da Alessio, 3 maggio 2015 a tutti gli spettatori del video e buona prosecuzione di giornata e di vita. Un saluto, ciao! Ciao! Ciao!